Adoro quando vieni ai funerali di famiglia Perché papà sfoga tutta la sua rabbia su di te Brian, chi è questo? Mi sono chiesto la stessa cosa quando mio padre è morto Mi sono detto, chi è quest'uomo? No, chi è quest'uomo nella bara, perché questo non è mio padre Hai messo Jackie Chan nella bara? Vai a parecchi funerali? Smettila, la piccola Martina, va ancora al liceo Beh, andrà ancora al liceo? Ma quello è un culo da universitaria Ho un po' d'ansia Prendi queste Che problema ha Oscar? Sono le tue pillole di Valium Quello che pensavi fosse Valium, in effetti è un allucinogeno Ciao, sorpresa E lei? Pensi ancora a me, vero? Ero così ubriaca che per me potevi essere anche un asino Grazie Non è un complimento Derek Ed ora ascoltiamo le parole del figlio di Edward, Aaron La bara si è mossa No La bara si sta muovendo C'è qualcuno vivo lì dentro che vuole uscire Bruciamolo e facciamola finita È stato terrificante quando tuo padre è caduto fuori dalla vara come un pesce a mordo Ma ho detto Mi dispiace molto aver saputo di tuo padre Eravate molto amici Qualcosa del genere Mi stai dicendo che il nostro padre era gay? Era molto gay? No, non posso crederci Papà Fammi capire A nostro padre piaceva fare sesso con un nano Che avrebbe potuto mettersi in tasca E sei furioso perché è bianco? Oh 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 Go to every time Oh 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 Slack Oh 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 Grazie a tutti